Quindi, il weekend di comunale... ...frimos della Fondazione Maria Carta, che in questi giorni partecipa al workshop portando la sua testimonianza. Frimos, infatti, fin dalla sua nascita ha l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri della Sardegna. Spopolamento e abbandono dei centri minori, un fenomeno che investe l'isola e che tocca anche altre aree in Italia e in Europa. Contrastare questa tendenza è fra gli obiettivi di politiche economiche e sociali finalizzate all'esplorazione e sperimentazione di strategie di riqualificazione e riattivazione dello spazio urbano. In questo solco si inserisce la terza edizione del workshop Restart curato dagli architetti Laura Daglio, Roberto Podda, Giuseppe Boi e Barbara Camocini, con il Politecnico di Milano e l'Università Cinese di Tianjin. Comprende lavori di progetto che riguardano il centro matrice di Oliena, proponendo un approccio di adattamento di un isolato urbano esistente per ospitare un hub fisico e digitale per la conservazione e il trasferimento del ricco patrimonio di cultura immateriale del luogo. Il workshop proseguirà nei prossimi giorni con conferenze, tra cui quella dell'antropologo e giornalista Bacchisio Bandinu e una serata dedicata all'illustrazione della tecnica del canto a tenore con il gruppo tenore di Oliena e con visite guidate nel territorio. Al termine del workshop, che vede la partecipazione di corsisti da diversi paesi europei e dalla Cina, i lavori saranno presentati alla cittadinanza, con la realizzazione di un Cultural Resilience Hub coinvolgendo la popolazione urbana e le associazioni locali.